Ma come si fa a guadagnare online quando i mercati scendono? Tutorialone sullo short selling sui mercati delle cripto! Bene ciao a tutti bentornati in questo nuovo video e benvenuti in questo super tutorialone quindi mettetevi comodi perché sarà un video dove analizzeremo un po' di questioni sia come si fa in maniera corretta lo short selling sui mercati delle cripto, sia quali sono le migliori piattaforme al momento secondo me per fare questo tipo di operatività. Intanto prendetevi un cuscino e vi mettete un cuscino sotto la sedia, poi mettete x2 se anche voi come voi riuscite a ascoltare i video a velocità doppia e poi ovviamente mi lasciate i pollicioni per questo super tutorial e iscrivetevi al canale se ancora non l'avete fatto e poi come sempre ragazzi fatemi sapere che vi piace o no nei commenti di questo video. Allora intanto faccio una breve sintesi, una breve brief su quello che è lo short selling. A cosa serve? Lo short selling è un'operazione di trading che si fa facendoci, ecco chiamiamo così, prestare uno strumento finanziario dal broker, il broker ci presta uno strumento finanziario e noi lo vendiamo senza averlo mai comprato. L'operazione di short selling viene utilizzata per poter guadagnare, quindi poter fare profitto anche quando i mercati sono al ribasso. Questa cosa è non troppo facile su alcuni exchange delle criptovalute, lo vedremo oggi che andremo a guardare Binance per capire come si fa lo short selling su Binance. Vedremo anche Bitfinex per quanto riguarda il broker e un altro tipo di exchange perché lo prediligo rispetto a Binance per questo tipo di operatività, vi spiegherò un po' anche perché, ma andremo anche a vedere Primexbt, cioè un broker CFD, quindi non un exchange, per capire le differenze che ci sono in questo tipo di operatività. Intanto da un punto di crisi di strategia non cambia niente con la sua funzione specchio, cioè il long ragazzi, perché nel momento in cui io vado a fare un'operazione di short selling devo ragionare in maniera totalmente simmetrica al long, quindi copro qui, aspetto che sale, vendo qui, nel caso dello short selling è una cosa totalmente opposta, vendo qui per ricomprare qui perché penso che lo strumento scenda. Praticamente inverto quelli che sono i due momenti, se questo è il momento di buy, questo è il momento di sell, solitamente vengono uno prima dell'altro, adesso faccio così, li rigiro in pratica ragazzi, se qui è il momento 1, quindi quello di buy diventa in questo caso il momento 2, quindi buy e questo è invece il momento 1, quindi sell. Prima vendo, poi compro. Questo è tutto quanto la questione, poi tutti i livelli di rischio, tutte le questioni legate alla situazione del long, vengono a replicarsi interamente per lo short selling. Se il mercato vi sale, quindi vi va contro la vostra direzione, fate un loss, perdete, dovete mettere lo stop loss. Se invece i mercati scendono, vanno a favore, bisogna mettere il take profit per prendere, diciamo, il take e tutto il resto. Allora, questa è la questione, c'è una sola differenza che con le operazioni short selling, alcuni dicono si può perdere di più di quello che tu hai investito. Questo è vero, se noi utilizziamo un conto come Binance ad esempio e facciamo diverse operazioni, se abbiamo una singola operazione in margine, quella operazione potrebbe liquidare l'intero conto, quindi dobbiamo stare attenti ed inserire lo stop loss. C'è questa peculiarità, perché ragazzi, indovinate un po', perché nelle operazioni di short selling uno strumento finanziario tecnicamente potrebbe anche salire all'infinito, mentre non può scendere all'infinito, quindi nelle operazioni di long noi massimo perdiamo il nostro capitale, cioè tutto quanto quello che abbiamo investito immaginando che si azzera lo strumento finanziario, cosa ovviamente remota. Nella questione dello short invece non c'è mai un tetto, perché tecnicamente lo strumento potrebbe salire all'infinito, quindi se sarà all'infinito noi perdiamo fino alla chiusura totale del conto. Questo è il discorso, quindi non è il caso in nessun modo di andare a fare short selling senza saper utilizzare stop loss e take profit. Secondo me lo short selling è un'operazione solo per trader o per investitori che sono formati e assolutamente necessita di una lettura, un corso di training. Ragazzi, non potete iniziare a fare questo tipo di operatività senza sapere assolutamente nulla di analisi tecnica, quindi vi consiglio vivamente di guardarvi questo tutorial, a studiarlo il più possibile e poi applicarlo a modi studio e formazione sempre come andiamo a fare. Allora, primo broker che io ritengo essenziale e importante per fare questo tipo di operatività nell'ambito crypto è PrimeXBT. Lo stesso tipo di operatività si può fare anche su altri broker CFD che a me non piacciono, però insomma lo riconoscete ragazzi, perché il broker CFD ci consente di operare in short selling in maniera semplificata, molto più semplice, di gran lunga più semplice rispetto a quello che sarà su Binance, lo vedremo tra poco, perché il broker CFD ragazzi nasce per fare questa operatività long and short e anche dividere le due operatività. Vi faccio per esempio, vi faccio una serie di esempi per farvi vedere. Allora, come si opera in short selling su PrimeXBT? Intanto, prima cosa, andiamo a decidere quale strumento vogliamo utilizzare. Nell'ambito dei broker CFD esistono diversi strumenti che noi possiamo utilizzare nel caso specifico Prime ha le criptovalute, ma non tutte le cripto. Questa è una cosa che noi dobbiamo anche tenere a mente, perché se vogliamo operare in short selling, per esempio, su criptovalute particolari, Prime non va bene. Prime va bene per operare in short su BTC, ETH, ETH, BTC, quindi cambi relativi, poi abbiamo IOS, LTC, come altre due cripto, ovviamente BTC, ETH, ETH, BTC ragazzi, quindi questi tre strumenti sono quelli più importanti, anche molto ghiotti dove fare questo tipo di operatività, però vedremo che su Binance sarà possibile farlo anche sulle famose altcoin che sono completamente diverse. Allora, come si opera su un broker CFD e come si applica uno short selling. Allora, ipotizziamo ETH, BTC come grafico, ragazzi. Perché vi faccio vedere questa cosa su ETH, BTC? Perché semplicemente ETH, BTC in questo momento ha un trend ribassista in questo momento in cui sto registrando questo video. Essendo che Bitcoin in questa giornata sta facendo dei numeri importanti sul mercato, sta facendo un bel rimbalzo e TH, BTC è sceso un pochettino, quindi siamo a favore di trend. Allora, immaginiamo di voler fare un'operazione ribassista sul broker Prime. Come si fa? Eh, ragazzi, è difficilissimo. Guardate come si fa ragazzi. Allora, si preme sell e si indica il prezzo, market, quindi l'order type, market, limit o stop, in questo caso ipotizziamo limit, altrimenti ragazzi mi prende l'ordine. Si indica il prezzo, che ovviamente deve essere superiore al prezzo attuale, non inferiore. Ipotizziamo di voler entrare in short selling se il mercato arriva a questo punto, 0.07175. Allora, posso fare in due modi. Clicco col tasto adesso e premo sell non buy sulla operatività e mi dà già il prezzo limit inserito. Poi metto, vendi, se arriva qui, il quantitativo di 0,1 BTC, cioè il corrispettivo in Bitcoin. Premo sell e boom. E qui è l'ordine. Se il mercato salirà a questo livello di prezzo, entrerà l'ordine sell short. Ragazzi, tutto qui. Questa è la questione legata ai broker CFD, che hanno tanti contro magari il fatto che non ha il KWC, la sicurezza non è paragonabile a quella di un conto come quello di Binance, ovviamente queste cose dovete fortemente andarle a ragionare, però poi la semplificazione di questo tipo di operatività, eh beh ragazzi, anche questa dovete tenerne conto, perché veramente su questi tipi di broker è molto facile eseguire operazioni in short selling. Top loss e take profit. Nell'ambito dello short sono opposti, quindi speculari, a quello del long. Io dico stop, qua il livello di ingresso è 71, 75, lo stop lo metto a 73, mentre invece il take profit se mi va a favore, quindi io dovrò mettere un take profit a 70, in questo caso. Faccio un edit e mi fa entrambi gli ordini, quindi questo è tutto Prime, ragazzi, come sempre link in descrizione, con un super bonus dal 25% di sconto sulle FIMI, date una mano con i referral, quindi se volete utilizzare Prime, se volete addestrarvi per quanto riguarda lo short selling, usate questi tipi di broker anche con qualche spicciolo, perché sono molto semplici e vi fanno capire le logiche, quindi vi lascio il link in descrizione. Andiamo a vedere su Binance come si fa lo short selling. Intanto Binance ha tre tipi di conti diversi, abbiamo il conto Fiat and Spot, quello classico dove andiamo a fare le operazioni di exchange e di acquisto e vendita delle crypto in spot, poi abbiamo il conto margin e il conto future, poi ci sono ovviamente quelli in earn, eccetera. Per utilizzare lo short selling, tralasciando la questione futures, perché si può fare anche lì, ma noi andiamo a vedere come si applica sul conto margin. Quindi andate qui, cliccate su margin e questo sarà il wallet che andremo a utilizzare per fare l'operazione di short su Binance. Primo problema già evidente su Binance. Dobbiamo spostare i fondi dal wallet spot al wallet margin. Quindi iniziano insomma un po' tutti questi meccanismi, ragazzi. Allora, in linea di massima non è difficilissimo, quindi state un po' attenti a questa questione, ma lo faremo insieme perché io per esempio ho conservato il USDT proprio per fare questa operatività. Quindi la prima cosa, andiamo su Transport, Fiat and Spot to Cross Margin. Questo è il nostro change, poi andiamo a un coin, mettiamo USDT, confermo il tipo di operatività. Adesso ho a disposizione sul conto margin 341 USDT per operare in margin trading e fare lo short selling. Quindi adesso posso fare short selling utilizzando come controvalore USDT. La stessa cosa potete farla se utilizzate come controvalore BTC. Se io mettessi dei BTC sul conto margin, a quel punto potrei utilizzare i BTC come collaterale per la mia operatività. In questo caso utilizziamo semplicemente USDT. Dopodiché ragazzi avete due task sul margin, abbiamo Cross e Isolated. Allora, la differenza è semplicemente nella leva applicabile. Cross vi dà leva fino a 3x e Isolated mi pare fino a 10x. Andiamo per esempio in Trade e andiamo in Margin e abbiamo la piattaforma di Binance con il Margin Trading. Qui avete una breve presentazione, welcome to Binance Margin, ve la vedete. Insomma vi fa anche fare un quiz se è la prima volta, magari non mi fa operare, mi pare, fino a quando non fate il quiz. E questo è quanto. Allora, Cross 3x. Andiamo a operare di nuovo sul nostro Cross che è quello di BTC e TH. Qui interveniamo col secondo punto complicato su Binance, cioè la questione di Borrow and Repay. Siccome, come vi ho spiegato all'inizio del video, quando noi operiamo in short selling, quello che avviene a livello pratico è che il broker ci presta la coin in questione per farcela vendere in pratica. Mentre nel caso di Prime XBT non dovete fare niente perché fa tutto il broker in automatico in quanto utilizza CFD, nel caso di Binance dovete prima prestarvi la coin che volete vendere allo scoperto, dopo di che andrete a immettere l'ordine di prestito. Tutto ciò ha anche un costo perché non è esente da costi ragazzi, perché anche il prestito vi fa pagare un costo di finanziamento applicato ogni ora. Infatti Binance applica il costo ogni ora, mentre come avevamo visto prima su Prime XBT il costo è una tantum alla mezzanotte. Se vendete prima, se chiudete prima della mezzanotte non si applica. Questo è un ulteriore vantaggio nel trading, per esempio in Traday, a utilizzare quel tipo di piattaforma perché costa di meno, va bene? Tra virgolette c'è sempre la questione di sicurezza per via del KYC, ve lo ripeto ragazzi, andatevele a studiare. Ovviamente non mi dite che poi non vi dico queste cose perché poi il video viene veramente di due ore, va bene? Allora andiamo a vedere come si imposta l'operatività short selling su Binance. Qui è diciamo la questione borrow, quindi se noi vogliamo vendere allo scoperto il pair ETH BTC, dobbiamo prima fare borrow qui ragazzi, quindi mettere borrow, poi andare a inserire il nostro livello di prezzo, vogliamo fare un limit anche su Binance, mettiamo 71,8, il livello di ingresso, l'amount, quanti ETH in questi casi vogliamo vendere allo scoperto. Mettiamo 0,01 BTC, ok? Quindi questa cosa corrisponde al 0,14 TH ed è stato immesso l'ordine di sell short anche su Binance. Vedete qui abbiamo un ordine che è stato immesso in questo momento, lo troviamo nella schermata, lo vediamo anche qui, si può spostare anche con il cursore. E ancora una volta ragazzi, vedete qui è stato inserito questo tipo di operatività in sell short su Binance. Ora qualora questo ordine venisse eseguito, a questo punto poi noi per chiudere l'operatività dobbiamo andare a cliccare qui sull'ordine inverso con repay, perché noi andremo a comprare, a vendere, scusate allo scoperto 0,14 5 ETH, quindi qui dovremmo mettere 0,14 5 ETH, non mi prende il punto perché Binance prende la virgola, ok? Poi qui dovrò ricomprare con la struttura repay perché automaticamente ripagherà il debito ragazzi, ok? Ok, questa è tutta la questione operatività, non ve lo faccio semplicemente perché mi fa pagare anche il prestito oltre le fee del fatto che ho, diciamo, mi sono prestato queste coin. Allora, cancelliamo questa ordine e vediamo anche un vantaggio enorme che è a Binance rispetto a Prime XBT, perché come vedete la questione è estremamente complessa in termini pratici, però poi è anche più difficile gestire con take profit e stop loss in questo caso, ma da un punto di vista invece di vantaggio c'è un vantaggio enorme, cioè ha un sacco di coin che possono essere vendute al ribasso, perché semplicemente se io vado a vedere tutte queste coin che hanno questi numerini possono essere shortate, quindi possono essere vendute allo scoperto. Poi c'è l'ultima piattaforma di cui volevo parlarvi oggi, che è secondo me la migliore per operare in short selling su una serie di criptovalute, cioè Bitfinex, ragazzi, perché Bitfinex ragiona come un ibrido tra Prime XBT e Binance. Se da una parte abbiamo Prime che ci fa fare l'operazione in short selling senza questo meccanismo di trasferimento sul conto margin, poi il repay, il borrow e il repay e fare tutte queste questioni, Bitfinex semplifica perché ci fa sempre trasferire la valuta di base nel conto margin, però poi l'operazione short ce la fa fare senza il meccanismo di borrow and repay, cioè in pratica è tutto automatico, non dobbiamo fare tutti i meccanismi che abbiamo visto su Binance. Allora intanto Binance, vi lascio il link in descrizione per chi di voi non si è registrato e vuole aprirselo, Binance è un must ragazzi, come exchange mi ha dato una mano come sempre e vi lascio anche il link ovviamente di Bitfinex che secondo me è utilissimo per questa operatività, l'unico neo di Bitfinex contro Binance secondo me in questo momento che ha delle commissioni molto più alte rispetto a quelle di Binance perché se voi utilizzate BNB come sottostante per pagare le fee su Binance pagate la metà delle commissioni più o meno di Bitfinex, però questa operatività su Bitfinex e non solo questa, anche una serie di altre operatività insomma vanno considerate ragazzi perché è un exchange secondo me che spesso viene tralasciato erroneamente. Intanto vabbè scusate ragazzi qui ci sono delle operazioni appunto in short selling aperte sul mio conto perché questo è proprio uno dei miei conti Bitfinex che utilizzo, quindi qui vedete una serie di operazioni che sono già aperte e in short contro le altcoin, quindi con BTC contro le altcoin, in questo momento stanno anche andando bene. Queste sono operazioni che gestisce uno dei miei bot che utilizziamo in Academy, tra le altre cose, questo è un bot che va a fare rendimenti di Bitcoin, quindi crea una rendita di Bitcoin, quest'anno ha fatto il 44% di Bitcoin, proprio facendo queste operazioni di short selling e anche long, a volte dipende, contro le altcoin. Molto bello ragazzi, mi è piaciuto tanto quest'anno vedere l'esito di un train system di questo tipo. Allora andiamo a vedere come si fa l'operazione. Intanto, prima cosa, bisogna trasferire anche qui da conto exchange a conto margin. Una volta fatto questo abbiamo la possibilità di utilizzare il conto margin per operare in short. Allora c'è un pulsantino come sempre nascosto e se clicchiamo sulla M io vedo solo le coin che possono essere shortate, shortate, quindi vendute praticamente allo scoperto su Bitfinex. Se invece lo togliamo ci sono anche altri tipi di coin sulla nostra list, quindi mettete M e abbiamo tutte le coin che possono essere vendute. In questo caso vado per esempio a dire ok guardami soltanto i cambi contro BTC perché io ho BTC, ecco di nuovo il nostro cambio è TH, BTC, andiamo a mettere uno short selling su questa operatività. Benissimo, allora mettiamo 71,8, io vado in questo caso, vedete, nell'order form a cliccare su margin, altrimenti se siete su exchange mi prova a mettere quello su exchange, metto un prezzo limite che l'amount in questo caso di nuovo facciamo 0.145 o 15 è TH, margin sell. Ecco l'operazione che è stata inserita in order per quanto riguarda questa operatività e la vediamo ovviamente in questo caso. Questa operatività può essere anche fatto un update dell'ordine in tempo reale e ovviamente potete cambiare l'amount eccetera, o trasformarlo in ordine nascosto che così non si vede diciamo nell'order book. Questa non tutti lo sapevano quando guardate l'order book che ci sono gli ordini nascosti, quindi che lo guardate a fa' vabbè. Vi appare la position così come lì ho io in questo momento, vedete per esempio XLM e BTC in questo momento che ha un profit del 5,27%, queste sono operazioni di qualche giorno e trading non è intraday ragazzi però quasi. Io qui posso andare a modificare questo tipo di, o a chiudere o a fare il claim della position che significa la stessa cosa, cioè praticamente andate a chiudere la posizione una volta che è arrivata dove deve arrivare e semplicemente questa operazione verrà già ripagata, quindi non c'è la questione del repay e del borrow che avete su Binance ragazzi, ok? Questa è estremamente un'operatività molto più semplice e una volta che avete anche questa tipologia di ordine potete anche mettere degli ordini contrari per esempio in modo tale da andare a chiudere in take e stop loss. Allora qui poi ci dà un riepilogo di quello che è il funding e di quello che stiamo pagando come costo di gestione per l'operatività in short. Ricordatevi che lo short ha dei costi relativi appunto al funding. Questo è quanto su Bitfinex, come si mette lo short selling, quindi spostate sulla wallet margin e poi inserite sulle coin che volete lo short selling. Ancora una volta non vi ho parlato della leva in questo caso perché non serve in quanto ragazzi la leva finanziaria anche qui dipende da quanto voi andate a investire. Bitfinex vi fa fino a 5 leva, ma se voi avete sul conto 0,5 BTC e utilizzate solo 0,5 BTC faccio per dire per fare lo short selling non state utilizzando la leva. Questo è il modo in cui si opera in short selling sui mercati ragazzi e questo tipo di exchange e Prime come broker CFD secondo me sono molto utili per iniziare questo tipo di operatività. Ricordatevi sempre che però lo short selling non vi aiuta a risolvere i problemi del mondo perché è semplicemente uno specchio del long. Quindi se beccate il trend, diciamo così, se trovate il trend giusto e la strategia di trading giusta potete fare gain anche con lo short selling. Ma se ancora avete un po' di problemucci a capire come si fa trading sul long tralasciate l'operatività in short perché non è quella che vi dà il profit ragazzi. È la strategia che vi dà il profit, è la formazione, saper operare. Lo short è uno specchio del long, consideratelo così. Tutto quello che sono le problematiche del long sono identiche anche nello short selling quindi bisogna avere il trading plan e la strategia per operare. Detto questo ragazzi, super tutorialone, gigantesco oggi su questa operatività e bene, penso insomma di aver detto un po' tutto. Se ci sono qualche dubbio ragazzi iscrivetemelo nei commenti poi magari faremo un nuovo video tutorial gigante di approfondimento. Per oggi è tutto, noi ci rivediamo nel prossimo video. Ciao!